E' tempo d'estate anche oggi, siamo entrati con qualche minuto di ritardo, sono le 10.57 perché quando c'è la preghiera naturalmente lo spazio è dedicato a lei, abbiamo pregato insieme con il Santo Rosario in diretta dalla Chiesa Inferiore di San Pio da Pietrelcina e proprio per questo motivo è cambiata anche la postazione dei nostri collegamenti esterni, ci colleghiamo subito con Maria Antonia che si trova all'esterno della Chiesa di San Pio e a lei chiediamo perché. Buongiorno Maria Antonia. Buongiorno a te Paola, buongiorno a tutti i nostri telespettatori, oggi cambio di location perché come giustamente ricordavi tu quando c'è la preghiera cambiano anche i nostri ritmi, il nostro palinsesto e le nostre esigenze televisive. C'è tantissima affluenza, non so se riuscite anche a vedere nell'inquadratura il Via Vaide Pellegrini che sono qui presenti sul sagrato della Chiesa di San Pio e siamo qui all'esterno perché proprio in questi giorni in cui c'è tanta affluenza è stata introdotta un'ulteriore celebrazione eucaristica alle ore 10 in Chiesa a San Pio e poi come i nostri telespettatori avranno avuto modo di vedere prima di noi il Santo Rosario, era in diretta dalla Chiesa inferiore, dalla cripta di San Pio in questa prima giornata del triduo missionario di preghiera. I frati Cappuccini con fratelli di Padre Pio infatti sono presenti da circa 50 anni con le loro missioni in Africa, in particolar modo in Chad e in Sud Africa con progetti di salute, di sanità, con progetti di educazione, centro di riabilitazione, anche possibilità di adozioni a distanza e quindi in questi tre giorni il Santo Rosario sarà proprio in questo triduo di preghiera missionario sarà appunto recitato e quindi trasmesso in diretta dalla Chiesa inferiore. C'è davvero tanta gente, gente che viene da diversi posti d'Italia in queste giornate di pellegrinaggio, ci fa piacere rivedere questi luoghi così pieni di pellegrini che in questo modo come dire significano e vivono la loro reale natura, ovvero quella del pellegrinaggio, dell'incontro e della preghiera. C'è tanta gente, infatti gli ingressi sono contingentati, la telecamera magari se può aiutarmi perché ovviamente bisogna entrare un po' alla volta, bisogna evitare assembramenti e quindi la gente con molta pazienza aspetta, insomma, di poter fare ingresso in chiesa e partecipare alla Santa Messa delle ore 11.30 che sarà ovviamente trasmessa in diretta e che sarà preseduta proprio da fra Raffaele e Maddalena, appunto, missionario presente nelle missioni dei frati Cappuccini in Chad e in Sudafrica. Per il momento, Paola, noi ti restituiamo la linea e quando avremo, se avremo qualche... Scusate, ci sono pochi secondi di ritardo. È una bella postazione quella che avete scelto stamattina, anche perché appunto vediamo il flusso di pellegrini, di persone che arrivano a San Giovanni Rotondo, che entrano in chiesa. È anche bello vedere come sono comunque muniti di mascherina, come si stanno disinfettando le mani e sono molto pazienti nell'entrare in chiesa. Esattamente. Anche questo è un bello spaccato, una bella finestra che apriamo sul nostro santuario, ecco, sulla nostra realtà. Assolutamente. Nel pieno rispetto di tutte le norme, ovviamente, anti-Covid che ovviamente prevedono l'utilizzo della mascherina, anche all'aperto, lì dove ci sono situazioni, insomma, di rischio, assembramento e di maggiore concentrazione di persone. Noi siamo Padre Pio TV, siamo in diretta, quindi magari se volete fare un saluto, non lo so, Corale, sono tutti qui in fila per poter accedere appunto alla chiesa di San Pio. C'è una signora che ha salutato, grazie, ricambiamo il suo saluto. Parlavi delle missioni, cara Maria Antonia, dunque a celebrare la Santa Messa in questi giorni ci sarà Fra Raffaele Maddalena, che personalmente alcuni di noi hanno avuto modo di conoscere perché noi ci siamo recati più di un'occasione in Chad, appunto, e Centrafica, dove i frati cappuccini hanno le loro missioni e quindi la scuola per Bebanassà, le adozioni a distanza, tante sono le attività e soprattutto il sostegno che i frati portano a quelle popolazioni. Esattamente, esattamente, quindi ricordiamo proprio oggi comincia questo triduo di preghiera, quindi ci sarà nelle giornate di oggi, domani e dopodomani. Speriamo anche di riuscire magari ad intercettare Fra Raffaele. Questa è una posizione strategica perché siamo all'ingresso della chiesa di San Pio, quindi riusciamo davvero a vedere bene quante persone stanno arrivando e magari se Fra Raffaele uscirà da questo stesso ingresso, magari chiederemo anche a lui una testimonianza sul duro ma prezioso lavoro dei tanti frati missionari che sono sparsi nel mondo. Bene, grazie Maria Antonia. Più tardi chiedici la linea in qualsiasi momento, compatibilmente naturalmente con i contributi che andranno ad arricchire questa diretta. Dunque più tardi, grazie Maria Antonia e grazie a Luigi che la sta accompagnando in questa esterna, 11 e 3 minuti è arrivato il momento di fermarsi. Pochissimi istanti e poi ancora insieme con tempo d'estate. E come accade ogni giorno scopriamo qual è il santo, la santa che la chiesa festeggia oggi, Santa Giovanna Francesca de Chantal, religiosa. La vita di questa santa è legata indissolubilmente alla figura di San Francesco di Sal, suo direttore guida spirituale di cui è la stessa, fu seguace, al tempo stesso ispiratrice e collaboratrice. Nata di Gione nel 1572, a vent'anni sposò il barone de Chantal da cui ebbe numerosi figli. Rimasta vedova, avvertì sempre di più il desiderio di ritirarsi dal mondo e di consacrarsi a Dio. Sotto la guida di Francesco di Sal, diede vita ad una nuova fondazione intitolata alla visitazione e destinata all'assistenza dei malati. L'istituto si diffuse rapidamente nella Savoia e nella Francia. Prima della sua morte, avvenuta a Moulin il 13 dicembre del 1641, le case della visitazione erano 75, quasi tutte fondate da lei. Etimologicamente il nome Giovanna significa il Signore Benefico, dono del Signore dall'ebraico. E allora, dal Santo che la Chiesa ricorda oggi a quello che nella storia oggi è accaduto, abbiamo trovato un accadde oggi che riguarda un po' più la tecnologia più che la storia, ma anche questa è storia, viene presentato il PC IBM, un personal computer appunto PC che sarà lo standard di riferimento negli anni 1980 per tutti i modelli di PC basati sull'architettura X86. E allora, vogliamo darvi anche un consiglio di lettura quest'oggi. Vogliamo darvi un consiglio di lettura perché il libro oggi parla di vita. Viaggio della vita, terza età e l'arte della vita di Vito Spagnolo. Questo libro è edito dalla LDC, ecco di cui vediamo la copertina. Un libro che vuole essere un contributo per aiutare le persone della terza età ad affrontare la vita con un atteggiamento positivo. Un libro che svela come affrontare il tempo dei suoi chiaroscuri del pellegrinare terreno e il testo focalizza i doni, le capacità e le possibilità che la persona adulta ha a disposizione per potenziare le proprie luci. E quindi il libro si intitola Il viaggio della vita, scritto da Vito Spagnolo, edito LDC. E la vedo già pronta dall'altra parte dello schermo, io la vedo, voi non ancora, perché la vedrete tra pochissimo quando sarà in diretta. Ce l'abbiamo, Maria Antonia, con i suoi ospiti. Pace bene il caso di dire Maria Antonia adesso. Ecco, dallo studio il saluto di pace bene, pace bene a don Raffaele, pace bene a Fra... Baldovino. Baldovino. Hai detto un don in più, ti sei emozionata. Adesso è fatto. Esatto. Allora, ricordavamo appunto del triduo missionario, siamo qui in presenza di due frati missionari. Noi abbiamo ricordato l'importanza, Fra Raffaele, delle missioni, dei frati Cappuccini, ovviamente presenti da tanti anni, una presenza, l'ho definita io, un lavoro duro ma prezioso. Quanto prezioso riesci sicuramente a spiegarcelo meglio tu? Sì, credo che è un lavoro fondamentale della Chiesa perché la Chiesa è missionaria e quindi non solo il missionario che parte per l'Africa deve sentirsi tale, ma credo che ogni cristiano deve riscoprire proprio la propria vocazione missionaria e credo che il compito della giornata missionaria è proprio questo, cioè di far aiutare i cristiani a riscoprire questo grande dono ricevuto dal Signore che è il dono della fede, il dono della parola di Dio, dei sacramenti, ma doni che non dobbiamo conservare per noi stessi, ma che dobbiamo sentire bisogno di trasmetterlo ai fratelli che ancora non lo conoscono. E come vede la presenza di questo fratello Baldovino è proprio un segno del seme seminato in tanti anni di missioni. I nostri frati, i primi, il primo gruppo dei frati Cappuccini del Chad, sono partiti in Chad nel 1965 e dopo tanti anni possiamo dire veramente che il seme gettato in questa terra ha portato i suoi frutti con tanti frati locali che sono oggi ad annunciare la parola di Dio ai loro fratelli. È una testimonianza sicuramente importante, è una responsabilità anche quella appunto di testimoniare l'importanza della missione, l'importanza non solo delle azioni concrete, ma anche della preghiera, della vicinanza spirituale. Grazie mille, io penso che la missione è importante nella nostra custodia di Centrafica Chad e ho preso questa occasione di dire grazie a tutti i frati missionari di Foggia, anche d'Italia, che hanno lavorato tante e molte in Africa e grazie per questo lavoro. Grazie a voi, davvero grazie a voi perché spesso, come dire, il bene si fa in silenzio, non fa rumore, però è giusto raccontarlo perché in quei posti le missioni, la presenza anche di tanti religiosi rappresentano davvero l'unico avamposto, anche presidio di civiltà, di una vita diciamo più serena, di una vita più dignitosa. Sì, dice bene lei, il bene si fa nel silenzio. C'è un proverbio africano che dice in una foresta fa più rumore un albero che cade che una foresta che cresce ed è proprio vero. Quindi il seme seminato in queste terre è un seme di pace, di serenità, di bene. Purtroppo le difficoltà che si incontrano sono tante e sappiamo bene come questi paesi del terzo mondo sono proprio caratterizzati dalla guerra, dalle divisioni, dalle differenze etniche e il vancello è veramente, veramente necessario, è importante. Allora noi siamo davvero contenti di aver raccolto questa testimonianza preziosa. Vi ricordiamo appunto che in questi tre giorni il Santo Rosario sarà trasmesso in diretta prima della nostra diretta appunto alla preghiera del Santo Rosario. Lo seguirete direttamente giù dalla Chiesa Inferiore, in questo triduo missionario. missionario. Grazie davvero, pace e bene e buona missione. Grazie davvero per quello che fate. Paola, a te di nuovo la linea. Grazie Maria Antonia e ai tuoi ospiti, appunto fra Raffaele e una bella rappresentanza appunto di frati francescani che sono legati a doppio filo non solo con Padre Pio ma anche con le missioni in Chad Centrafrica. E allora apriamo come accade ogni giorno le nostre teche e l'archivio di Padre Pio TV. Oggi vogliamo partire con la testimonianza, abbiamo ancora qualche minuto prima della lunga pausa perché poi ci accompagnerà alla celebrazione delle 11.30, partire con uno stralcio di una lunga intervista realizzata dal nostro direttore Stefano Campanella al professor Francesco Lotti. Il padre sa in 30 anni di consuetudine di cose ne ha dette tante e non sempre si riescono a ricordare qualche cosa ho scritto proprio perché la memoria molte volte può anche fare degli scherzi di frasi particolari di Padre Pio, è vero, soprattutto quando si era la sera in quel po' di ricreazioni che lui si consentiva prima di andare a riposare dopo la funzione della sera, quello del momento nel quale lui magari usciva un po' con qualche battuta che poi era sempre esortativa, aveva sempre un fondo diciamo di didattico, di ammaestramento anche se non esplicitato. Ad esempio qualche volta lui faceva delle uscite, delle sparate un poco sopra le righe e una volta io dissi ma padre quella persona insomma ma la busta era per lui ma la lettera era per qualche di un altro che era presente, se l'ha voluta capire. Ecco quindi c'erano un pochino anche queste ma poi naturalmente sono tantissime insomma le sue battute, le parzellette che raccontava insomma. Era molto preoccupato e qualche sera una sera in particolare mi ricordo che stavamo andando verso la cella e lui si mise in progetto a piangere, si fermò e disse guardando in alto poveri figli, poveri nipoti. Fece solo questa battuta in quella circostanza. Però lui aveva l'intuizione anche delle difficoltà economiche che sarebbero sopravenute. Ricordo che quando qualcuno gli chiede a padre devo farmi la casa, devo costruire la casa, sa è un problema, devo prendere dei soldi presto, fallo subito, fallo subito che un giorno le case costeranno miliardi. C'era qualche frate diceva, boom padre Pio addirittura miliardi, le case costeranno miliardi diceva lui e naturalmente si rimaneva un po' perplessi perché uno dice ma come le case costeranno, come fa a costare una casa dei miliardi? Sembrava inverosimile naturalmente allora, invece poi l'abbiamo vissuta. E allora continuiamo con le nostre teche, intanto però vorrei ricordarvi il nostro indirizzo di posta elettronica al quale potete fare riferimento per inviarci le vostre foto di gruppo, ricordi di pellegrinaggio a San Giovanni Rotondo, fatelo in fochiocciola a teleradio padrepio.it, potete inviarci foto di gruppo, gruppi parrocchiali, familiari e perché no, ma anche se siete venuti semplicemente in pellegrinaggio da soli o in compagnia di un amico o di un'amica, potete condividere con noi le vostre foto, non solo con noi ma anche con i nostri cari telespettatori. E allora proseguiamo, abbiamo ancora un po' di tempo perché voglio condividere con voi, la testimonianza, sempre di una lunga intervista, oggi fisicamente l'ingegner Piero Gasparri non è più con noi ma ci ha lasciato davvero una straordinaria testimonianza legata a padre Pio. Anzi a me ti ho detto a padre Pio, padre mi aiuti per concludere, perché questo professore rimaneva sempre freddo nei miei riguardi, era duro. E poi a questa mia richiesta mi guardò con un occhio un po' beffardo, eh, oia magnappaglia, quindi un albure del Samaro. All'altra, e io, nel frattempo frequentavo un degnissimo santo, frate, padre, passionista alla Scala Santa, che avevo conosciuto tanti tanti anni prima del ragazzo al santuario di Santa Maria Coretti. E' quello che ha fatto Santa Maria Coretti. E' di Santa Gemma Cargani, che siamo a livelli... Io parlavo dei miei viaggi da padre Pio, ma lo vedevo un pochino freddo. Io portavo a leggere pure alcuni scritti che già circolavano su padre Pio. Che ne pare? Mi pare un po' troppo deciso, un po' troppo sicuro. Ma vabbè, questo padre oltre 80 anni soffriva di asma. Una volta lo vedi, a limite sembrava che dovesse morire un momento all'altro. L'unica volta senza abito, sulle... strozzato dall'asma. E gli dissi, padre, io vado da padre Pio domani mattina, che mi dia una benedizione. Va bene, faccio il mio solito viaggetto la mattina, dopo la messa in sacristia, ma avevo timore, diciamo se di qualcosa mi caccia via. Stupido, avevamo delle idee così sballate su padre Pio. Mi passa davanti e dico, succede, succede. Padre, benedica padre Mauro, passionista. si volta a padre Pio. Con viso ho mai visto, così sorridente. Sì, di cuore. Porta, miseria. Torno a Roma, non torno, non cerco più per parecchio tempo il padre, mi dà, farsi sentire è morto. Vado alla Scala Santa, chiedo ai padre Pio, vada, vada, vada su, entro nella sua stanza. Stava seduto, un'aria riposata. Padre, che è successo? Eh, una sera, dopo tanti anni, sono sceso dal refettorio, ho chiesto un brodo caldo, e da allora mi è passato tutto. Stranamente coincideva con quando padre Pio mi ha dato sta benedizione, sto brodo caldo, quindi ha coinciso molto con la benedizione. Poi io l'ho raccontato, lui ha sorriso, e per anni ho accompagnato questo santo, sape, frate, mi pare il 7 luglio, quando ricorre la Santa Maria Coretti, il giorno dell'assassino, agli alle ferriere, nella stanza dove la santa è stata assassinata, che lui è postulatore, gli rici, infatti, c'era la messa, quindi, va bene, ecco, vede, leggo gli scherzetti di padre Pio. Gli scherzetti di padre Pio, come amava a dire l'ingegner Gasparri, vi posso assicurare che ho ascoltato queste testimonianze tantissime volte, però ascoltarle come la prima volta, davvero sono sempre cariche di significato e di suggestione. Prima di cedere di nuovo la linea alla regia, vogliamo vedere la foto di gruppo di oggi, sempre tratta dagli archivi fotografici di voce di padre Pio, andiamo negli anni 80 a un gruppo che arriva da Ribere, in provincia di Agrigento. Foto scattata, entra, vedete, ecco, in alto lo stendardo con la foto di padre Pio, con l'immagine di padre Pio, e una foto scattata davanti l'ingresso principale della Via Crucis a San Giovanni Rotondo, dello scultore Messina. Quindi che bei volti, che belle foto queste che davvero ci riportano indietro nel tempo. era il 1980, un gruppo che appunto arriva dalla provincia di Agrigento. E allora, 11.20 in questo istante, pausa, questa volta un po' più lunga, e poi ancora insieme per partecipare alla Santa Messa, alla celebrazione eucaristica delle 11.30. Rimanete con noi.